buongiorno a tutti come vedete stamattina c'è anche Gafu ci siamo fatti mezz'ora di ascolto Gafu si è bello rilassato significa che l'impianto suona bene anche al gatto gli da fastidio visto che come parlo di tocco settori dell'i-end o parlo di qualche forum le visualizzazioni aumentano vertiginosamente e questo significa questo significa che i miei video sono visti sicuramente dai miei iscritti che ringrazio ancora ringrazio e di quello che mi scrivono che sono pure incazzati sono incazzati e sono contenti di quello che dico specialmente quelli che hanno speso i soldini e mi scrivono persone che sanno nel professionale nel professionale non nell'i-end che capiscono quello che dico io e pertanto siccome le visualizzazioni sono molte anche i messaggi ci sono tante persone tante persone che sono sicuramente persone appassionate che hanno impianti favolosi ai-end come ho sempre detto bei suoni messi appunto a dovere no no questi che sfoggiano che basta che mettevi ho speso 200 mila euro no quelli lì io non parlo a quelli io parlo a persone appassionate che sanno far suonare gli impianti gli impianti suonano con la preparazione e l'esperienza e no con i soldi questo lo dovete mettere in testa tutti quanti specialmente quelli che scrivono le stupidaggini con i soldi non si costruisce un suono meraviglioso assolutamente quello che vi posso dire che io questo è uno short lo chiamo io perché non mi posso per me ripeto io sono un deficiente a fare i montaggi non mi interessano poi adesso a parte le cose quelle che penso le voglio dire così come mi vengono io vi torno a ripetere un impianto come ho io e come qualcuno avrà ma io ancora voglio dire poi c'è stata tanta gente che so anni prima di me che utilizza queste cose e non ha fatto dei video la differenza che c'è di un impianto professionale messo a punto è come se voi vi comprate un bmw chi è appassionato da autovetture vi comprate un bmw 3000 e io mi compro un bmw 3000 competition c'è quella la differenza è quella siamo su un altro mondo non ci arriverà mai un impianto a niente a suonare come un impianto professionale questi ancora continuano con i conetti, con il buferino, con il tuito alberiglio sempre se stronzate qui siamo su un altro livello siamo su un livello altissimo c'è meglio di questo non esiste voi dice ma questo io mi infervoro sì perché a me mi piacciono i suoni quelli veri noi fedecchie a me non mi interessa se per terra ci saranno 300 mila euro di elettroniche e quello è il problema io ho sempre detto qui siamo in un altro mondo cioè proprio partiamo dal presupposto a livello della componentistica non è paragonabile siamo proprio lontani lontani chilometri pertanto state calmi state calmini anzi più va agitate e più vi rispondo giocate sentitevi i vostri impianti ma rimanete con i piedi per terra qui si scherza qui si senta la musica vera noi stronzate un saluto a tutti grazie grazie